Ragazzi, passate da Eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN Card e Microsoft Card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite i link che trovate in descrizione. Compra anche tu su Eneba.com Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di football 2023. Video aggiornamento molto rapido perché ci sono delle notizie ufficiali, finalmente sappiamo la nuova data di uscita dell'aggiornamento 2.3.0 L'aggiornamento che dovrebbe, e dico dovrebbe, portare il crossplay, dovrebbe, e sottolineo dovrebbe, portare le squadre offline a pagamento e anche una bozza di menu di modifica, probabilmente. Adesso vi dirò di più, quindi mi raccomando, guardate tutto il video. Prima di andare avanti invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale, aiutatemi a far crescere il canale sempre di più, quindi iscrivetevi, attivate la campanella. Un altro ottimo modo per supportare il mio lavoro è quello che faccio, chiaramente, è lasciare un like a questo video che aiuta tantissimo l'andamento del contenuto. Eventualmente, se utilizzate Amazon per i vostri acquisti, fare i vostri acquisti appunto su Amazon tramite il link di affiliazione che trovate in descrizione. Questo è un modo gratuito, ovviamente, come anche gli altri modi, per supportare il mio lavoro. È davvero tanto, tanto gradito, quindi, se potete, fatelo. Ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, perché chiaramente devo mostrarvi le info ufficiali che sono arrivate oggi. Infatti, siamo sul sito ufficiale Konami, sezione chiaramente i Football, e c'è un avviso. Informazioni sull'aggiornamento versione 2.3 di Football 2023. Pubblicheremo la versione 2.3 di Football 2023 il 22.12.2022. Quindi, questo giovedì, dopo domani. Per ringraziare tutti del loro straordinario supporto, gli utenti che installeranno l'aggiornamento entro l'1.59 del 26 riceveranno un accordo al buio. Una volta installato l'aggiornamento 2.3.0, accedi al gioco, apri la posta in arrivo entro l'1.59 del 26 per riscuotere l'accordo al buio. Potrai usare l'accordo al buio dopo il lancio e l'aggiornamento 2.3.0 fino all'1.59 UTC del 29.12.2022. Buon divertimento con i Football 2023. E lo stesso avviso che ci era stato dato settimana scorsa per quanto riguarda l'aggiornamento che appunto doveva uscire il 15, poi il giorno dopo è stato rimandato. Speriamo che Konami domani non fa di nuovo la stessa cosa, non credo, sarebbe davvero clamoroso ed è alquanto improbabile secondo me. Però, come sempre, Konami dice una cosa buona ma non conclude, diciamo, tutto. Perché, sì, la buona notizia, come ho accennato poco fa e come vi ho letto adesso, c'è stata. Ma non ci ha svelato il contenuto in maniera ufficiale, ecco perché non completa l'atto di dare la buona notizia. Perché la dà solo a metà, senza dire cosa conterrà l'aggiornamento. Allora, andiamo per gradi però. Numero 1, Galvani ci ha preso e quindi, giustamente, flexiamo anche un po' il buon Galvanino che questa volta ci ha preso in pieno. Questo anche perché è giusto dire quando sbaglia, ma è giusto dire anche quando ci prende clamorosamente. Perché lui aveva detto che l'aggiornamento sarebbe arrivato il 22 dicembre e c'è anche il tweet qui del 14 dicembre a testimoniarlo. E poi, in effetti, l'aggiornamento è stato spostato proprio al 22 dicembre. Tra l'altro, Galvani ci dice, inizia l'inverno europeo. Con gli occhietti, come dire, staremo a vedere. Per quale motivo? Vabbè, qui, innanzitutto, c'è anche l'annuncio ufficiale perfino sul Twitter di Football che ci dice la stessa cosa. Verrà consegnato l'aggiornamento il 22 dicembre. E questo è solo per mostrare anche la campana di Twitter, ma è la stessa cosa che c'è sul sito ufficiale. Ma perché ci sono gli occhietti sul tweet di Galvani? Perché, ragazzi, ve ne ho parlato anche svariate volte, ma rinfresco l'argomento. Ci sono una serie di tweet pubblicati dall'account europeo gestito da Konami Play Football che, appunto, stilano in questi tweet i lavoratori di Konami che gestiscono questo account una roadmap, una tabella di marcia. Tabella di marcia che fino adesso è stata rispettata perché ci dice che come contenuti gratuiti le lobby match in cui gli utenti possono creare stanze, le partite amichevoli che facciamo adesso nel Dream Team sarebbero, appunto, arrivate dopo l'estate 2022. E così è stato, perché sono arrivate ad ottobre, ragazzi, non so se vi ricordate. Nella stessa roadmap ci dice che alcune funzioni di editing saranno disponibili nell'inverno 2022, non inverno 2023, inverno 2022. Quindi, tra pochi giorni, il 31 finisce l'inverno 2022, perché poi continua essendo inverno 2023. Il cross-platform su console e PC sarà disponibile nell'inverno del 2022, sempre. Quindi, se vanno oltre il 31, poi sarebbe sempre inverno, però a quel punto la data è 2023. Non so se lo considerano comunque inverno 2022, ma la data effettivamente sarebbe 2023 a quel punto. E, appunto, come già detto, gli editing, il cross-platform su console e PC. E poi, come contenuto a pagamento, e in questa sezione è ancora più specifico il discorso, il numero di squadre utilizzabili nei campionati e nelle squadre di club sarà ampliato e distribuito come contenuto aggiuntivo, appunto, a pagamento, entro la fine del 2022. E qua non c'è modo di interpretare, cioè nel senso non è che puoi dire, vabbè, ma magari si va nel 2023, ma gennaio e comunque inverno 2022 è un ragionamento un po' contorto, però Konami potrebbe fare anche questo tipo di ragionamento. Però, ragazzi, questo non è proprio fraintendibile, perché dice che le squadre offline saranno distribuite come contenuto aggiuntivo entro la fine del 2022. E vabbè, la Master League sarà disponibile a pagamento nel corso del 2023, e questo è ancora presto per parlarne. Qualcuno di voi, ragazzi, erroneamente, mi aveva segnalato la cancellazione da parte di Konami di questi tweet, e invece, meno male che non ci ho fatto un video e sono andato a controllare, perché non è assolutamente così. Questa roadmap è ancora presente nell'account PlayFootball, appunto account europeo gestito da Konami, che si occupa di divulgare le notizie ufficiali per quanto riguarda il gioco calcistico prodotto dalla casa nipponica, e quindi è ancora tutto presente qui. C'è tutto. Di conseguenza, visto che l'aggiornamento arriva il 22 dicembre, che tra due giorni l'inverno inizia il 21, se non erro, inizia domani, quindi proprio è in inverno, ok? E mentre se l'aggiornamento fosse uscito il 15 non sarebbe stato inverno a quel punto, quindi mi viene da pensare che la settimana è stata presa, cioè perché non si sono accorti che avevano detto inverno, per rilasciare queste modalità di cui vi ho parlato adesso, e invece il 15 è ancora autunno, quindi il 22 adesso, un giorno dopo l'inizio dell'inverno europeo, il 22, inverno, arriva l'aggiornamento. Questa cosa, sinceramente, a me fa ben sperare. Non so se avete capito il mio ragionamento. Cioè, ci troviamo... Se prima non ci trovavamo, perché era 15, adesso il 22 ci troviamo in pieno, ragazzi. È inverno 2022, la roadmap fino adesso, questa roadmap è stata rispettata. Quindi, ragazzi, le speranze ci sono, e come? E non sono poche le speranze a questo punto. Le speranze ci sono, e come? Continuiamo a sperare, perché, diciamo, tutti i puntini fino adesso si stanno unendo. Magari non sarà così. Magari Konami se ne sbatterà e farà semplicemente un aggiornamento preparativo per quello che sarà il vero update che porterà queste novità. Magari è esattamente quello di cui vi sto parlando adesso. Quindi, non si sa, ragazzi. Però, c'è da dire che, comunque, unendo tutti i puntini che vi ho mostrato, unendo tutte le informazioni che vi ho mostrato, una buona speranza c'è. Ma magari, ripeto, non sarà così. Konami si rimangia tutto, se ne sbatte di quello che ha scritto qui, e in questo aggiornamento non arriverà niente. Però, saremo a vedere. La speranza c'è, il ragionamento è sensato, e le cose potrebbero andare nella maniera in cui vi ho descritto. Chiudiamo il video con una piccola rettifica di quello che ho detto in due video fa. Praticamente ho parlato di giocatori epici, giocatori big time, che usciranno, e non sapevo, avevo perso una parte del sito, non sapevo che fossero ufficiali. Gli ho dati come indiscrezioni. In realtà sono ufficiali perché è scritto in una parte del sito qui, ben nascosto. C'è scritto che, appunto, ci saranno nuovi giocatori, e questo l'ho scoperto grazie alla segnalazione di qualcuno di voi, eh ragazzi, quindi grazie mille, perché anche a me possono sfuggire le cose, ovviamente, sono un essere umano. Nuovi giocatori epici, Rummenigge, Beckenbauer, Kakà, e altri giocatori blasonati, eccetera, eccetera. Come giocatori epici, quindi non saranno gli unici questi tre, anche altri giocatori blasonati. Poi, come big time, David Villa, Mateus e Zico. E saranno i prossimi tre, ragazzi, perché mancano tre settimane alla fine della stagione due, alla fine di questa fase che concluderà, appunto, il 12 gennaio. La stagione due, quindi, dovrebbero esserci come big time, David Villa, Mateus e Zico nelle prossime tre settimane. Non sappiamo l'ordine. Magari prima Zico, poi David Villa, prima Matteo, non lo sappiamo. E lo stesso vale per Rummenigge, Beckenbauer e Kakà. Però non sappiamo l'ordine di arrivo. Staremo a vedere, ragazzi, staremo a vedere. Detto questo, io vi ho riempito di informazioni per oggi, diciamo, ho detto tutto ciò che avevo da dire. Non abbiamo parlato solo dell'aggiornamento, ma ho fatto anche questa piccola rettifica. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, fatemi sapere la vostra opinione, sia sull'aggiornamento, sia sui big time, sia sul fatto che Galvani ci ha preso, eccetera, eccetera. Insomma, ditemi il vostro pensiero, perché per me è molto importante. Io vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro SimoPlay. Bella ragaz!